Una strana coltivazione scoperta sorvolando un'area rurale di Campomarino a bordo di un elicottero della sezione aerea della Guardia di Finanza di Pescara. Così le fiamme gialle hanno rinvenuto una coltivazione di marijuana, 3.900 piante coltivate e nascoste nella vegetazione, coltivazione che da terra non si sarebbe mai scoperta, ignoti per ora i coltivatori dell'appezzamento di terra che una volta identificati rischiano l'arresto. Decisive le ricognizioni aeree svolte dai finanzieri del reparto operativo aeronavale di Pescara, grazie alle quali si è riusciti a perlustrare la folta vegetazione dell'area basso molisana. Le piante di marijuana sono di varie dimensioni, organizzate secondo precisi cicli di crescita e di produzione progressiva. Una volta avvistato, il campo anomalo è stato segnalato ai finanzieri della compagnia di Termoli che hanno perlustrato il terreno dal basso e scoperto una coltivazione industriale perfettamente organizzata con irrigazione goccia a goccia. Le fiamme gialle, coordinate dalla Procura della Repubblica di Larino, sono intervenute per estirpare le 3.900 piante pronte per la raccolta delle infiorescenze, droga che sul mercato avrebbe assicurato circa 4 milioni di euro di guadagni illeciti. Grazie. 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 Grazie.